Da oltre 30 anni il ristorante Arcobaleno a Cava dei Tirreni significa qualità e convenienza. Riparte da oggi, mercoledì 3 giugno, la libera circolazione nella penisola. Dopo lo stop imposto per contenere la diffusione del Covid-19, è dunque possibile nuovamente spostarsi tra le regioni senza bisogno dell'autocertificazione. Inoltre, l'apertura riguarda anche i cittadini dell'area Schengen e della Gran Bretagna, che potranno venire nel nostro paese senza obbligo di quarantena. Riaprono quindi anche le porte della Campania. Nella giornata di ieri, in occasione della Festa della Repubblica, il governatore Vincenzo De Luca, che nei giorni scorsi aveva espresso riserve sulla posizione in tema di mobilità del governo, ha dichiarato «Una volta presa la decisione, si va avanti. Occorre fare in modo che questa nuova fase sia un'occasione per far crescere i valori di unità e solidarietà nazionale, di impegno totale per il rilancio delle economie e del lavoro, per il sostegno a chi è stato duramente colpito dalla crisi in corso». De Luca ha poi firmato in serata l'ordinanza numero 54, valida fino al 15 giugno, che contiene le misure di prevenzione adottate. Nel dettaglio in Campania, tutte le persone provenienti dalle altre regioni italiane o dall'estero hanno l'obbligo, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, e il proprio medico. Inoltre, tutti i viaggiatori in arrivo con treni che effettuano collegamenti interregionali o all'aeroporto dovranno sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e nel caso si riscontrassi un valore pari o superiore a 37,5 gradi a test rapido Covid-19 ed eventuale tampone. Il provvedimento prevede anche controlli dello stesso tipo agli imbarchi per le isole del Golfo. In particolare, chi proviene da altre regioni o dall'estero potrà imbarcarsi solo con traghetti di linea da Napoli Porta di Massa o da Pozzuoli, prenotando online almeno 24 ore prima della partenza, in modo da consentire la più celere organizzazione dei controlli sanitari. Per quanto riguarda i dati del contagio, sono risultati positivi 12 dei 2020 tamponi esaminati nella giornata di ieri nei laboratori regionali, numeri meno confortanti rispetto a quelli dei giorni precedenti. Lunedì in particolare erano risultati positivi solo 3 dei 2976 tamponi analizzati.